Musica Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana ma anche all'esterno perché il primo tema ci porta direttamente al Parlamento europeo di Bruxelles perché parleremo proprio del nostro Presidente del Consiglio regionale che al termine dei lavori della plenaria del Comitato europeo delle regioni ha evidenziato tanti spunti che sono arrivati per quanto riguarda la qualità dell'aria dalla nostra regione. Poi invece torniamo a parlare appunto nella sala del Palazzo del Pegaso di Marco Meacci che è il nuovo Presidente del Comitato toscano del Coreco e poi si canta per la pace con Noa, a Empoli Jets Noa che appunto ha ricevuto anche dal Consiglio regionale il Pegaso. Allora vi dicevamo l'importanza della presenza di Antonio Mazzeo al Parlamento europeo anzi meglio al Comitato europeo per le regioni che lavora per portare il suo contributo nella discussione sulle politiche di concorrenza nell'Unione europea e appunto il Presidente ha parlato anche della svolta green, la svolta verde che non dovrebbe pesare sui cittadini dovrebbe essere attuata da tutte quante le industrie e le aziende e soprattutto a tanti spunti sono arrivati proprio dalla nostra regione dal modello toscano ma ascoltiamo proprio il Presidente Mazzeo in questa dichiarazione che ci arriva direttamente da Bruxelles. Oggi abbiamo affrontato due questioni fondamentali per la vita dei cittadini la prima è quella della qualità dell'aria come noi possiamo offrire alle cittadine e ai cittadini dei nostri territori un livello di vita migliore quali sono gli investimenti da fare qual è la direzione da intraprendere e soprattutto come noi dobbiamo investire in tecnologie che consentono di ridurre le emissioni e anche il secondo atto va in questa direzione la direzione di dare risposte affinché nascano imprese green non le imprese che inquinano tanto come sta avvenendo fino ad ora tutto questo deve avvenire non ricadendo sulle spalle dei cittadini con costi che devono sostenere soprattutto le persone che soffrono di più oggi entrando in aula ho avuto modo di passare nella galleria dei presidenti e di vedere l'immagine di David Sassoli un grande uomo delle istituzioni che ci ha mandato un messaggio semplice avvicinare con le sue parole il modo di lavorare l'Europa ai cittadini e che è riuscito a lavorare nella direzione di cambiare un po' la cultura anche all'interno del Parlamento Europeo e di portare tutti nella riduzione di investimenti per ridurre le disuguaglianze ecco tutto questo deve tenersi insieme tutta questa è la nostra idea d'Europa ed è proprio questo il tema il tema è quello della transizione di come noi riusciamo a tenere il presente il futuro tenendo però il presente facendo in modo che quelle imprese riescano a cambiare sostenendo finanziamenti che vanno in una direzione green come dicevo prima e sulla qualità dell'aria io sono contento che tanti degli spunti che troviamo nella nostra risoluzione che andremo a votare sono spunti che arrivano anche dalla nostra regione dalla Toscana abbiamo appena presentato una comunicazione al Consiglio in questa direzione e tanti di quei punti che ho detto prima sono punti che prendono proprio spunto e idea dal nostro lavoro e da Bruxelles torniamo invece nel Palazzo del Pegaso si è insediato il Corecom lo farà come primo appuntamento con un tour per la Toscana per far conoscere i servizi e i compiti del Comitato regionale per le comunicazioni oltretutto compiti che offre gratuitamente ai cittadini ad esempio le controversie tra utenti e gestori dei servizi telecomunicazioni, telefonia, internet ma non solo questa è la prima iniziativa conosciamo anche il nuovo Presidente Marco Meacci nato a Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia nel 67 ma nato praticamente in provincia di Brescia ma cresciuto e vive tuttora in Val di Chiana nella Val di Chiana Aretina il Corecom è un'istituzione fondamentale nell'ordinamento legislativo e attuativo dei principi statutari della regione toscana il Corecom ha una funzione importantissima da un punto di vista della garanzia della garanzia della correttezza nell'informazione e di propulsione attiva nell'informazione il lavoro che aspetta l'organismo che sarà guidato dal Presidente Meacci è quello di rimettere mano anche al sistema diciamo normativo con cui disciplina la propria attività il Corecom pensate che ad esempio nelle leggi che il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato manca ogni riferimento alla dimensione dei social e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta quindi vi sarà un lavoro che è importante verso il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività e poi oggi che la comunicazione è tutto non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni a partire appunto dal Consiglio dalla Giunta regionale insomma un organismo a supporto sia dell'Assemblea legislativa sia dell'attività di Giunta che diventa fondamentale e che mi porta oggi a esprimere il buon lavoro a figure, i rappresentanti nel Corecom che svolgono un'azione spesso magari non in prima pagina non in proposizione di primo ruolo ma che nella sostanza è una delle funzioni fondamentali dell'attività della Regione La comunicazione cambia cambia velocemente e tocca la vita di ciascuno di noi e il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom a Enzo Brogi per il lavoro per l'impegno per la dedizione anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana il Corecom si è insediato oggi con il nuovo comitato il nuovo consiglio abbiamo già alcune idee alcuni impegni importanti da portare avanti credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione per l'istituzione in Toscana veniamo da un lavoro precedente molto molto importante molto positivo guidato da Enzo Brogi noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro in particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del Corecom in Toscana vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana in modo da farlo conoscere far conoscere anche i servizi gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni penso per esempio a tutto il tema delle controverse telefoniche poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale e poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche in modo da rendere sempre più il core come uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori Sono onorata di questo nuovo incarico e impegno e sicuramente appunto porteremo avanti il buon lavoro fatto dal comitato precedente ma porteremo anche delle nostre iniziative e soprattutto penso al campo della tutela dei giovani dalla rete e io direi anche una particolare attenzione agli anziani perché le fake news sono anche materie insomma che possono danneggiare i nostri anziani quindi questo sarà il mio impegno in questi cinque anni Credo che la comunicazione oggi sia uno strumento strategico di connessione e di collegamento è importante la percezione anche della vicinanza dell'istituzione e cittadini oltre che la vicinanza reale credo che il compito del Corecom sia dare questa visibilità questa percezione fare tante cose e comunicare anche che si stanno facendo perché è importante anche il livello di percezione se facciamo comunicazione quindi oggi è un momento importante un momento come il primo giorno di scuola c'era entusiasmo ci si conosce ognuno di noi potrà dare il contributo cercando di essere il meno autoreferenziale possibile ma aprendosi anche a quelle che sono queste contaminazioni che vengono fuori dalla vita vera dalle minuzie quotidiane come raccontava il presidente Mazzeo alle cose più importanti perché poi impattano sulla vita delle persone quindi sono tutte altamente importanti oggi è un momento importante istituzionale altamente simbolico l'insediamento è un momento di grande entusiasmo proprio perché l'outlook insomma la prospettiva è quella che in qualche modo ci dà fiducia nel futuro con l'insegnamento ho trovato un comitato ricco di eccellenze nel mondo della comunicazione che sono sicuro che insieme alla guida del presidente Meacci è una macchina amministrativa davvero eccellente anche questa riusciremo a fare un ottimo lavoro sperando di eguagliare quello dei nostri predecessori di Broggi sotto la guida del presidente Broggi che ha fatto un ottimo lavoro e per il quale ancora oggi raccogliamo i frutti siamo già pieni di idee soprattutto cercheremo di portare avanti le ottime idee intraprese dal vecchio comitato in particolar modo quello del patentino digitale poi abbiamo appunto idea di dedicarci maggiormente anche a quelli che sono i social perché appunto il mondo sta cambiando molto velocemente e vorremmo che il Corecom fosse sempre più presente in questo mondo che va veloce e che cambia e far conoscere sempre di più in Toscana il Corecom che è un organismo importantissimo pronti a partire abbiamo quindi conosciuto anche tutti i membri del Corecom torniamo invece nel palazzo del Pegaso perché c'è il Pegaso proprio d'argento che è stato donato come riconoscimento alla grande artista Noa Noa che si batte da sempre per i diritti civili in Israele e nel mondo sarà in concerto il 24 luglio in Toscana e in modo particolare a Empoli in provincia di Firenze all'interno della quindicesima edizione di Empoli Jets Summer Festival che è stato proprio presentato all'interno del palazzo del Pegaso I'm very happy to be coming to Empoli and of course Peace has been an important part of my work and my career over 33 years Ed è 33 anni che lei canta La pace e proprio per questo è contenta di essere ad Empoli Especially since the murder of Yitzhak Rabin which was 27 years ago Soprattutto dall'evento che è avvenuto 27 anni fa It's not just an event it's the murder of Yitzhak Rabin the prime minister Esatto che è stata appunto l'uccisione di Akrabi sorry for my pronunciation Yitzhak Rabin was the prime minister of Israel and he was murder by an extremist 27 years ago del primo ministro di Israele che è stato ucciso da un estremista 27 anni fa That was the time I started being an activist for peace Ecco quello è stato l'esatto momento in cui lei ha iniziato ad essere attiva proprio un attivista per la pace Anche se in realtà lei ad Empoli verrà proprio per cantare il suo repertorio musicale quindi non tanto come attivista della pace ma proprio come cantante È stato davvero bello poter accogliere Noa in consiglio regionale i messaggi che manda sono messaggi forti e oggi abbiamo bisogno di messaggi che guidino indirizzino coloro i quali hanno la possibilità di decidere verso una pace una pace che noi chiediamo con forza perché quello che sta avvenendo in Ucraina è davvero qualcosa di terribile e deve terminare nel più breve tempo possibile Noa rappresenterà uno dei tanti spettacoli il più importante dell'Empoli Jets Summer Festival 2023 15 edizioni il senso di una comunità che cresce che cresce intorno alla musica perché investire nella musica investire nella cultura vuol dire investire in libertà ed è davvero bello oggi aver ascoltato le parole di Noa che è del senso che la strada che abbiamo tracciata è quella giusta le emozioni della vita è bella hanno fatto crescere una generazione la sua voce le sue parole possono essere d'aiuto in questo tempo così difficile E là anche un riconoscimento dal Consiglio regionale Sì abbiamo scelto insieme al Presidente Sostegni di dargli il segno distintivo della nostra regione Noa ama la Toscana ed è uno di quei volti che può far conoscere ancora di più quanta bellezza quanta arte quanta cultura ci sia nella nostra terra abbiamo scelto il Pegaso perché rappresenta un po' bene quella che è stata la sua esperienza il Pegaso ci manda un messaggio forte era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Toscana oggi è il segno della Toscana e in quel segno ci sta la voglia di scegliere scegliere sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare oggi la parte giusta della storia da cui stare è quella di ricercare con forza la pace in Ucraina un riconoscimento importante della nostra regione che è stata la prima a abolire la pena di morte che in quel simbolo contiene i simboli tutti i valori della resistenza e in particolar modo quindi anche quello della pace all'indomani di una grande guerra che aveva sconvolto tutto il nostro territorio e Noah è una cantante stupenda conosciuta a livello internazionale che ha fatto del messaggio della pace uno dei connotati della sua attività artistica e non solo e quindi ci è sembrato veramente importante omaggiarla con il simbolo della Toscana contenti che il 24 sia a Empoli per un concerto straordinario e invitiamo tutti ad essere presenti dal 2009 che appunto organizziamo il festival anche altre attività sicuramente il concerto di punta sarà quello di Noah e sarà in un luogo speciale perché sarà in piazza Farina degli Uberti dove il sagrato della chiesa della collegiata sarà il palco e la facciata della chiesa sarà la quinta dello spettacolo e il terzo concerto che facciamo nella nostra storia in questa piazza il primo è stato con McCoy Tyner Charles Lloyd e poi ora con Noah ci saranno altri concerti sono il 17 luglio c'è Emmett Cohen Trio e i Super Bud che è un gruppo di Empoli il 24 luglio appunto Noah il 25 ci sarà una serata dedicata alle nuove generazioni jazz in particolare Basile Trio e poi abbiamo Antonio Ottaviano Quintet che faranno appunto sarà una serata dedicata ai giovani l'apertura sarà fatta in piano solo da un pianista israeliano appunto che si chiama Gaimintus poi concluderemo il 3 di agosto con Daniele Malvisi Quintet e Camielli Trio un altro gruppo israeliano poi noi oltre diciamo ad Empoli facciamo anche l'estate fiorentina al Forte Belvedere con la rassegna Jazz al Forte e quindi lì è un altro programma chi vuole ci può seguire sulle nostre pagine social ed è sempre informato di quello che succede quest'anno per la prima volta a Empoli ci sarà anche una tappa del Firenze Jazz Festival il 10 di settembre con Dado Moroni in piano solo e noi faremo l'apertura sempre al Forte Belvedere del Firenze Jazz Festival e con il Pegaso d'Argento a Noasi conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio vi ricordo per tutti gli approfondimenti e le delucidazioni www.inconsiglio.it vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qua Dentro il Consiglio di aver guardato il dietro di aver guardato il dietro e vi ringrazio per aver guardato il dietro e vi ringrazio per aver guardato il dietro